Tempo di primi bilanci per il Consiglio regionale uscito dalle elezioni di febbraio. Un'assemblea fortemente rinnovata, composta da 60 membri rispetto agli 80 delle passate legislature, che si è insediato poco più di un mese fa per le note lungaggini seguite al conteggio dei voti. Il Consiglio regionale della quindicesima legislatura autonomistica per ora non si è distinto in quanto a iperattività, come ci sarebbe aspettati davanti ad una crisi economica e sociale senza precedenti. Così come per la Giunta regionale ci si sarebbe aspettati una grande attività da parte dei consiglieri e dai gruppi politici di destra e di sinistra per aggredire i problemi che attanagliano l'isola. Invece in questo mese e mezzo l'Assemblea è riuscita a mettere assieme una trentina di ore di lavoro. In questo conteggio sono comprese anche le ore dedicate alle elezioni degli organi dell'Assemblea, per il resto poco meno dell'ordinaria amministrazione. È stata discussa qualche mozione, importante quanto si vuole, come per esempio quella unitaria sull'alluvione. È stata presentata qualche interrogazione, ma niente di più. E questo andamento a rallentatore ha interessato maggioranza e opposizione. Sembra che il tempo si sia fermato e che la Sardegna possa permettersi di non avanzare proposte concrete per uscire dall'impassi. In queste ore si sono tenuti tanti discorsi sulla specialità autonomistica dell'isola, sul pericolo che corre di fronte alle modifiche costituzionali in corso di discussione in Parlamento. Ma forse servirebbe un esame di coscienza da parte della classe politica sarda. In particolare su come in questi anni sia stata sprecata una grande occasione offerta dallo Statuto Autonomistico, le cui prerogative sono state fatte valere a sprazzi e timidamente di fronte ai governi nazionali di turno. La speranza è che il Consiglio regionale da maggio in poi accederi e metta in cantiere provvedimenti utili alla Sardegna.